Cosa ti rende unico? Le tue cellule. Miliardi di cellule. Multicentrum contiene micronutrienti che aiutano a nutrire il tuo corpo a livello cellulare. Rispecchiando il tuo benessere, aiutando il tuo metabolismo energetico e dandoti la vitalità per prenderti cura di ciò a cui tieni di più. Perché se stai bene dentro, si vede anche fuori. Multicentrum. Il benessere inizia dalle tue cellule. Il benessere inizia dalle tue cellule.